Ciao ragazzi, benvenuti in questo breve video per avvisarvi che alle 17 sarò in live, io no tipo fra mezz'ora anche perché si tipo quando caricherò il video sarà più o meno le 16.30, non lo so in ogni caso ragazzi Andremo in live sulla Piximon come vedete qui su questo Technic Launcher con un server che non è quello nostro, cioè andremo anche un'oretta anche col server nostro Però giocheremo per una bellissima ora sul server di altezza 12 Pokémon, Piximon insomma E' un server che mi ha consigliato qualcuno di voi su TS, quindi lo ringrazio Gian Perutora che mi ha consigliato questo server E mi ha detto provalo così almeno magari fai giocare un po' i ragazzi che vogliono giocare alla Piximon perché molti hanno detto che non sanno installare la Piximon Non hanno problemi a giocare ai Pokémon quindi magari potremmo vedere un po' come è il server e se magari vi piace potreste giocare qui così almeno Potete giocare tranquillamente alla Piximon senza dovermi chiedere, volesse dammi il pacco, volesse dammi qualcosa In ogni caso per scaricarlo scaricate il Technic Launcher, scrivete qui nella ricerca altezza 12 Pixelmon e poi tranquillamente giocate Noi ci vediamo alle 17 in live, giocheremo solo sul server almeno per un'oretta e poi passeremo a registrare l'episodio che uscirà credo mercoledì della Piximon Quindi non mancate mi raccomando ragazzi, vi lascio qui sotto comunque tutti i link per tutte le cose tra cui il live di Hitbox e anche come installare il Technic Launcher A dopo ragazzi